Tanta rabbia, sì, forse si vede, ma ce la teniamo per noi, abbiamo tanta rabbia perché non doveva succedere, punto. Io vi dico solo questo, a me dispiace che questa cosa non doveva succedere, purtroppo è successa e io mi dico ancora cosa saranno le leggi, tutto qua. Ma voi avevate paura quando entrava o era uno come tanti altri? Noi avevamo paura, sì, però cosa potevamo fare? Niente. Perché avevate paura? Perché è una persona che non ti fidi già dal vedere dalla faccia. Ma faceva qualcosa? No. Perché qualcuno dice che aveva anche cercato di aggredirla una volta al supermercato. Questo non lo so, però basta vedere una persona dalla faccia. Io penso che una persona come la signora qui di fianco, vedi che è una bella persona, gentile, la vedi già dallo sguardo. Se è una persona come lui, non ti fidi già dallo sguardo. Ma sapevate della relazione con Vanessa? Lei si era confidata con voi? No, no. Però vi aveva detto, guarda che c'è qualcosa che non va, tenetemelo lontano. O no, neanche questo? No, no. Nulla. No, grazie.